Allora, amici interessi, io vi voglio bene, voglio iniziare questo video chiedendo questo concetto Perché forse ieri avete un po' travisato il senso del video Ci siete, ci siete tuffati, oddio ma che stai, Dio Zinno Van Helsden è il mio idolo, il calciatore più forte della storia Per non parlare di Emmers, ok, va benissimo Allora, io mi sono, dopo che ho letto i vostri commenti, ho detto Santi Dio, di chi sto parlando, cioè sto parlando veramente di due fuori classe, non li conoscevo Avevo scritto nel titolo due sconosciuti perché, scusatemi ma nel palcoscenico europeo, quello che conta Evidentemente non erano due nomi che erano risaltati Vi dico per esempio uno Zaniolo, magari lo conoscono in Belgio Ecco io, scusatemi, non mi sono andato a vedere la Liga Belga Non mi sono visto la formazione dell'Inter primaria dell'anno scorso E questo Van Helsden mi era sfuggito Poi sono andato a vedere, comunque, valori di transfer market, ve l'avevo detto Già 10 milioni di euro, evidentemente è un calciatore che ha fatto bene Perfetto Ma avete travisato? Adesso in questo video cercherò di spiegarvi il motivo per cui a volte mi sono trovato a parlare di Inter E penso che nel video di ieri qualcuno di un po' più scaltro l'ha capito Dato che qualcuno mi ha continuato a scrivere Ma perché parli sempre di Inter? Allora Van Helsden Eccolo qua ragazzi Il mio idolo Mi faccio la maglietta Cioè questo qui ragazzi Pensare Un classe 99 Come De Ligt Si è rotto il crociato Vabbè, due anni fa È ritornato Grande stagione Pensate che lo Standard 10 è arrivato addirittura Terzo nel campionato Belga E lui praticamente è un calciatore che a maggio si è fatto male al ginocchio Lo stesso del crociato di due anni fa Si parla di cartilagine Cosa da niente Insomma De Rossi voleva smettere per problemi della cartilagine che non si possono recuperare Comunque va bene Operazione della cartilagine Tutto bene Ritornerà a settembre-ottobre Questo ragazzo classe 99 Evidentemente molto promettente Dovrebbe essere venduto Per pensare È stato venduto in passato Dallo Standard 10 all'Inter Quindi Per un milione di euro L'Inter lo ha ridato Allo Standard 10 in prestito E adesso Lo Standard 10 lo vuole rioccistare A 25 milioni di euro Questo da fonti addirittura Dei siti belghi ragazzi Me lo sono andato a prendere Mi sono fatto Ho sfruttato le mie conoscenze di francese Benissimo ragazzi Mi sono andato a vedere Niente ricertificato Staremo a vedere poi le informazioni Definitive Ma insomma Se dovesse essere così 25 milioni di euro Però C'è un però Però C'è Che lo Standard 10 Si era riservato Il 30% Sulla futura rivendita Quindi lo Standard 10 Praticamente Si date soldi da solo Per Per confusione Tra creditore e debito Lo Standard 10 Pagherà alla fine L'Inter Un 18 milioni di euro Questo Quello che sembra Dal belgio Emers non dovrebbe Essere venduto Ma Andare esclusivamente Impressi da giocare Allo Standard Liège Sono tutte e due Belgi A motivo per cui forse Vanno in Belgio Non lo so Sta di fatto che È comunque Ragazzi C'è Una valutazione Sui 20-25 milioni di euro Quel che sarà Per questo ragazzo Che si è appena Fatto male al ginocchio Penso che veramente Possa essere considerato Se non il calciatore Più forte In difesa d'Europa Poco ci manca Ma va bene Neanche questo Il problema Di questi trasferimenti Che ho voluto evidenziare Ieri Dicendomi Ragazzi Per me Ormai Il paletto economico Del Financial Fair Play Risulta facilmente aggirabile Ma È un altro E forse Qualcuno Nei commenti L'ha evidenziato Qualcuno chi Sempre gli interisti Però gli interisti Che hanno voluto Ricordare La situazione Di Mandragora Perché Mandragora Non fu Diciamo Uno scandalo Per la valutazione Sì ok Ragazzi Aveva solo una stagione Di A E forse 20 milioni di euro Erano Il triplo Del suo valore Va bene Va bene questo Il problema Qual era? Il problema Era la squadra Che l'andava ad acquistare Perché è qui La vera cosa Che balza agli occhi Cioè Se questo ragazzo L'avesse acquistato Il Barcellona Per 25 milioni di euro Io vi avrei detto Ragazzi Il Barcellona Fa investimenti Su questi ragazzi Al fine di poi Imbroccarne uno Ed avere quello Da 150 milioni di euro Un po' come ha fatto La Roma Con Zaniolo Valutato 2,5 3,5 4,5 Che poi alla fine Zaniolo è stato Valutato 6,7 Lo stesso anno La Roma Ha preso Cioric A 7 milioni di euro Lo stesso anno La Roma Ha preso Biandà A 6 milioni di euro Quindi assolutamente Degli investimenti In linea con lo storico E con la struttura Economica Della società Quello che balza Agli occhi In queste operazioni È che queste vendite Sono fatte A delle società Ok in Italia Vogliamo definire amiche Sì definiamo l'amiche Perché l'Udinese È una società Amica della Juventus L'Atalanta È una società Che con l'Inter Ha ristretto Un rapporto commerciale Intenso Negli ultimi anni L'Inter Ha un'amicizia E le milanesi Hanno delle amicizie Con il Genoa E con Preziosi Insomma Storica E quindi Ci sono state Delle cessioni Ragazzi Che hanno fatto Un pochino Pensare Che I valori Un po' aggonfiati Sono delle Sono delle cessioni Un po' ad hoc Per quale motivo Alte squadre Non si sono interessate A Van Helsen Per quale motivo Non hanno offerto Quello che ha offerto Lo standard 10 Cioè questa cifra Monster Per Per questo ragazzo Non lo so ragazzi Poi si tratta Di una materia Quella delle plusvelenze Di cui abbiamo parlato Tanto In cui una cosa è certa Che non ci sono certezze Cioè non si sa Quanto può valere Un calciatore Anche ieri Vi avevo portato L'esempio di Cerri Non so neanche Se è venduto Dalla Juve Cioè sono stati Talmente tanti L'anno scorso Mi sembra Dalla Juve Al Cagliari Per 8 milioni di euro Quanto ha giocato Quest'anno Tre partite Cioè Degli investimenti Per delle società Capite Che di solito Cioè no di solito Cioè nella loro storia Non hanno mai fatto Questi investimenti Lo standard 10 L'ultimo acquisto Pesante che ha fatto È stato di 5 milioni di euro Poi il ragazzo Mi ha detto Ah no perché ha venduto Due giovani Per andare a prendere Altri due giovani Ma non è la politica Cioè queste società Non si possono permettere Di andare a fare Questo tipo di investimenti Cioè veramente O sto ragazzo Hanno visto Questo è un supereroe Goku Come se trasforma O c'ha un flirt Col presidente Oppure ragazzi Sono degli investimenti Fuori la norma Per queste squadre È questa anche La discriminante Perché poi Che l'Inter Abbia Un settore giovanile Forte Era una cosa Comprovata Ve l'ho detto anche ieri Sta vincendo Forse quest'anno Vince il terzo Campionato di fira Per l'altro Ha battuto 3-0 La Roma Un commento intelligente Che mi ha fatto ridere Di un interesse È stato Quelli della Roma Se li ricordano bene Questi nomi Evidentemente è così Perché mi sembra La Roma anche l'anno scorso Aveva perso con l'Inter O forse due anni fa Vabbè Sta di fatto E comunque l'Inter Ha vinto gli ultimi Due campionati di prima era Quest'anno Forse vincerà l'altro C'è la finale Con l'Atalanta Quindi sicuramente È un settore giovanile Che vale tanto L'anno scorso Abbiamo fatto più o meno I conti Credo Siamo sui 65 milioni Di euro di plus valenza Della squadra Dell'anno scorso Che a quell'età Ragazzi Parliamo di una proiezione Di Veramente Di calciatori Che sono stati venduti Li dovremo comunque Vedere tutti In Champions League O giù di lì Tra qualche anno Con delle valutazioni Intorno ai 30 milioni Di euro a testa Perché Di media Perché Sono comunque 65 milioni di euro Per quell'età Pina Monti Però non è manco Stato venduto E credo sia Tra quelli che ha fatto Un'esperienza un po' più solida Delle cose pazzesche Comunque Il discorso del video di ieri Come al solito Perché gli interisti Voi mi partite Così Boh ma stecca E devo dire Che mi piace Mi piace Fare video sull'internet Perché mi piace Leggere i commenti No perché Se dire Cosa Ma adesso è matto Stai rosicare La storia La storia La mentalità Sì Con la mentalità Non ci fai niente Cioè servono i soldi E Suning Sta dimostrando Di poter Ovviare le problematiche Del paletto economico Che pone il financial fair play Sono due Li conoscete Spero li conoscete Spero li conosciate Per commentare questi video I paletti Del financial fair play Non li conoscono Alcuni siti Che parlano ancora Di necessità Di fare cassa Perché non si deve fare cassa Ma si deve realizzare Una plus valenza Quindi è necessità Di fare ricavo Che è una cosa Totalmente Diversa È come dire Pere e patate Sono due frutti Cioè Sono due cose diverse Pere e patate Peraltro Vabbè diciamo Mele o peri Dai Quindi 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 Il discorso Qual è ragazzi Che Suning ha dimostrato Di poter Superare questo paletto E allora io ieri Vi ho detto Ragazzi Cioè dobbiamo prendere atto Che la situazione è questa All'UEFA Non interessa nulla Che l'Inter Abbia Tutti gli anni Il limite massimo Di sponsorizzazioni Possibili Non interessa nulla Che abbia Sponsorizzazioni Più alte Della Juventus Non interessa nulla Che abbia delle sponsorizzazioni Credo a questo punto Doppie O più del doppio Del Milan Che comunque È un'altra società Con un brand fortissimo Nel mondo Per quanto Non vogliono Riconoscere Alcuni interisti E Nel video di ieri Io vi avevo detto Guardate C'è la contrapposizione Non è poi Tra Inter Volevo fare Perlomeno questo Non è una contrapposizione Tra Inter e Roma Ma tra Inter e Milan Perché sono due modi Di Completamente Ovviare Ai problemi Del Fanasia Da un lato C'è Suning Che cerca di dare Una parvenza Di rispetto Delle regole E secondo me Ragazzi Chiaramente La sta dando Però Le regole Non sono controllabili Ecco in quel senso Dall'altro lato C'è il Milan Che assolutamente Che assolutamente Se ne frega E staremo a vedere Se l'UEFA Effettivamente Poi arriverà Un giorno Al giudizio E vi ho detto Le problematiche Grandi sono Sul Milan Ma la Roma Allo stesso tempo Deve agire Tanto è vero Che nel titolo Di ieri Se ci fate caso Cari amici interisti Oltre a soffermarvi Sui due sconosciuti Mi ha detto Ebbè Van Eustem Ed Emmers Ehi Non li conosci No ragazzi Scusate Scusate Non mi sono andato a vedere La Liga Belga Non mi sono seguito Le prima era dell'Inter L'anno scorso Vi chiedo scuse ragazzi Neanche la Serie B L'ho seguita per Emmers Mi dispiace Mi dispiace Ma che sei matto C'è due giovani Spaziali Sono fortissimi Sono Va bene ragazzi Staremo a vedere poi Mi faccio la maglietta Guardate Di Van Eustem E Che cosa Vi stavo dicendo Che nel titolo C'era comunque Scritto Chiaramente Che cosa deve fare La Roma Cioè il video Era per spiegare I prossimi step Della Roma Che comunque Si deve necessariamente Prendere atto Della situazione E deve Cambiare Il modo di Di gestire Questa situazione Perché la Roma E qui Il vero Il vero motivo Per cui io cito spesso L'Inter E perché E perché E la società Con cui io devo farmi Il raffronto Per spiegare le cose I tifosi della Roma Perché la differenza Tra l'Inter e Roma Sono le sponsorizzazioni Di Suning In questi anni Punto e basta Non c'è una bravura Dei direttori sportivi Perché anche l'Inter Ha sbagliato Dell'operazione Come l'ha sbagliata La Roma Anche l'Inter Ne ha azzeccare Come l'ha azzeccare La Roma Ma le due società Sono pressoché Molto simili Eccezione fatta Per le sponsorizzazioni Dell'Inter Punto e basta Questa è l'unica differenza Che c'è stata Tra la Roma E l'Inter In questi anni E i tifosi della Roma Che non si sono resi conto Di questo Sono il mio target Non sono gli interisti Sebbene poi ragazzi Mi fa piacere leggere I commenti degli interisti Che non capiscono niente E io rido E mi piace E mi piace leggere Questi commenti Di persone che mi vengono a dire Ma che sei matto Ma che non li conosci Questi due Sono troppo forti Va bene ragazzi Poi vi interrogo Sulla prima era della Roma Domani vi interrogo Anzi Faccio una live Vi interrogo Sulla prima era della Roma Comunque ragazzi Con questo ho concluso Un caro saluto A miei follower interisti Ma soprattutto Ai romanisti Che spero Capiscano qualcosa E capiscano i messaggi Che cerco di far passare Con questi video Ciao tattico E ciao a tutti quanti